Dopo la pausa estiva torna la Coppa Toscana con la 31esima edizione del Gran Fondo Stracca Bike. L'appuntamento è per domenica 3 settembre a Prato Vecchio in provincia di Arezzo. La gara è valida anche per il Tour 3 Regioni e per il Bike Advisor Super Prestige. La Stracca Bike entra nel Super Prestige perché il suo tracciato è stato giudicato il più bello del circuito Tour 3 Regioni. Un percorso diventato un classico per le Gran Fondo, calibrato su 47 km e 1500 metri di dislivello. La grande novità per questa edizione è sul percorso classic, quello di 22 km e 650 metri di dislivello che diventa agonistico. Una bella occasione per gareggiare e mettersi alla prova e magari salire sul podio. Prato Vecchio e Stia e i paesaggi inconfondibili del casentino tra foreste, antiche chiese, eremi e castelli medievali. Uno scenario ideale per la 31esima Stracca Bike del 3 settembre prossimo. Mountain Bike e Cultura. Il fine settimana del 2 e 3 settembre a Stia si terrà la Biennale d'Arte Fabbrile. La Stracca Bike è sicuramente una bella occasione per visitare anche questa importante manifestazione. Sport, Mountain Bike e molto altro il 3 settembre a Prato Vecchio con la Stracca Bike. E per tutti gli All Finisher la medaglia della Stracca Bike.